Il sangue dei medici deve essere versato. Quando il cardinale Riario alzerà l'ostia, tagliate loro la gola. Quando il cardinale Riario alzerà l'ostia, tagliate loro la gola. Quando il cardinale Riario alzerà l'ostia, tagliate loro la gola. E mio fratello, nel Duomo, nel bel mezzo della Messa, non sono crimini commessi contro la mia famiglia, sono crimini contro Dio! Adesso voglio che tutta la famiglia Pazzi sia perseguitata e sia sterminata. Io voglio che il nome dei Pazzi sia cancellato per sempre dalla storia! Grazie a tutti! Grazie a tutti!